L'Ande è giocata a Made in Italy di Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi. I due calciatori sono stati protagonisti di un triplice colpo di tacco sugli sviluppi di un calcio d'angolo prendendosi gioco di Sabalo a Bianice, azione che avrebbe meritato di concludersi con un gol. È accaduto durante la partita di Major League Soccer tra Toronto e Atlanta United, vinta dal club canadese per 2-0. Iscrivetevi al canale!